Segnati col culo lì, occhio alla testa sopra, ottimo, grande, fatto, agile Ottimo, come siamo? Lunga un po' le gambe, dov'è il sacchetto? Ne apra, questo è il finestrino che ti dicevo, per aprirlo sollevi e si apre E si sbocca, e si sbocca Ok, per chiuderlo, tiri, e metti, premi, e metti giù Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction Ok, posto, buono? Ti chiedo intanto, intanto io arrivo, faccio il giro Ma che è che sbazza la porta? Ciao ragazzi, sono Max Felicitas, oggi in compagnia di un campione mondiale, Luca Bertossio Bella lì Max, bella lì E oggi, diciamo che ho provato con lui l'ebrezza del volo E sono sopravvissuto E comunque ci saranno novità A breve forse No, adesso è stato un duro uomo, ci puo dire Ma è sempre duro